Ignazio Moser ciclista italiano è nato a Trento il 14 luglio 1992 sotto il segno zodiacale del cancro è alto 1 metro e 90 centimetri e da occhi e capelli castani. Ignazio nasce da famiglia ciclista e figlio di Francesco Moser, nipote di Aldo Moser, e il cugino di Leonardo Moser, Matteo Moser e Moreno Moser. Ignazio segue le ore della sua famiglia iniziando anch'esso a pedale e a vincere varie competizioni, vincendo nel 2012 la medaglia di bronzo ai campionati europei della pista, fonte foto Instagram Nel 2014 il giovane annuncia il suo ritiro dal mondo del ciclismo per mancanza di motivazioni che lo spingono a salire in groppa alla sella e si getta capofitto nell'azienda di famiglia, ovvero le cantine Moser. Intanto Ignazio giungerà all'interno del cast della seconda edizione del reality Grande Fratello Vip, condotto da Hilary Blasi, della vita privata di Ignazio si sa ben poco non risulta sposato e non ha figli, nel 2016 fu paparazzato in dolce compagnia con Tania Dexter's, Miss Belgio e Miss Universo. Al momento non risulta fidanzato. Potete seguire Ignazio sul suo profilo social Instagram e chiocciola Ignazio Moser.